buongiorno amici buongiorno amiche oggi come potete vedere abbiamo due dongle questo che già conosciamo che collega android to android il vostro smartphone android alla vostra autoradio questo invece è la novità eccolo qui i due sono fratelli perché la scatola è praticamente la stessa cambia solo l'immagine e già da questo ci fa capire che sono fratelli ma io poi ho fatto anche gli aggiornamenti ota di questo e ho utilizzato lo stesso ip di questo per fare gli aggiornamenti ota quindi la mano è la stessa questo è un prodotto che io utilizzo sempre un prodotto di grande successo che collega perfettamente il vostro smartphone android all'autoradio attraverso il android auto wireless quindi senza utilizzare il cavo diciamo che lui assomiglia un po al motorola ma1 sono molto simili lui secondo me è anche migliore perché non è certificato google come il motorola ma1 ma ha gli aggiornamenti gli aggiornamenti ota che la ma1 non ha questo qui è la novità ora sul mercato e ha sia carplay che android auto che li rende wireless però a differenza di altri dongle come ad esempio 8cast 2x anche 8cast 2x rende attraverso un dongle la vostra autoradio la possibilità di collegarsi via wireless all'iphone e ad android però che cosa fa 8cast 2x e molti altri simili come ad esempio carlin kit 4 fanno sì il collegamento anche dei telefoni android però entrambi sfruttano il modulo carplay e sfruttando il modulo carplay ad esempio io perdo qui le copertine spotify e la possibilità di utilizzare i comandi al volante quindi utilizzando il modulo carplay si collega sia android auto wireless ma solo qui senza rifare tutto il pippone andatevi a vedere la recensione di questo che vi metterò in descrizione questo qui quindi switchando con un semplice tasto in alto andremo su carplay wireless in basso android auto wireless avrete un collegamento via wireless diretto ma come dicevo sarà android to android quindi non perderete le copertine spotify non perderete le telefonate come se utilizzaste questo sostanzialmente questo era esisteva in due varianti questa e la modalità e la versione carplay lui le unisce quindi non non c'è niente di meno avere questo o avere questo è la stessa cosa soltanto che con questo è come se aveste anche la versione carplay quindi questo se tanto mira tanto va preferito perché come lui è veloce come lui si collega direttamente come lui il vostro smartphone verrà visto come un android collegato come lui ha iota esteticamente lo trovo peggiore perché è una plastichina un po' un po' delicata fa un suono vuoto e non è non è satinato quindi tiene anche le ditate è anche un po' più grandicello di lui quindi come estetica potevano fare di meglio però sicuramente se li trovate lui e lui allo stesso prezzo non c'è paragone perché lui è come se ne aveste due di questi quindi alla priorità di prezzo prendete lui se costa meno e avete solo un telefono android da collegare all'auto prendete lui spero di essermi di essermi spiegato quindi lo chiameremo fulmine 2 perché questo l'abbiamo chiamato fulmine 1 e questo lo chiameremo fulmine 2 perché effettivamente è il degno erede perché non perde nessuna funzione di quelle che aveva lui e si aggiunge la possibilità di collegare il carplay diciamo che che ho detto tutto eccoci qua ci sono gli aggiornamenti via via otta vi lascerò il link in descrizione quindi quindi buon divertimento e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate a vi metterò anche la guida per aggiornare lui attraverso il firmware attraverso internet la guida è la stessa del suo perché praticamente sono sono identici o comunque molto simili come procedura di di aggiornamento ci vediamo presto iscrivetevi al canale telegram che metterò in descrizione ciao a tutti